A Castelvetrano scoperti 5 lavoratori in nero, 2 percepivano il reddito di cittadinanza. Da oggi 3 regioni in zona bianca, non è sicuro il 21 giugno per la Sicilia. Le motovedette libiche che sparano ai pescatori vengono riparate in Sicilia. Procedura di mobilità compensativa di interscambio tra i comuni di Mazzara del Vallo e Trapani. Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG8 Informazione. Cari telespettatori, buon inizio settimana. A Castelvetrano sono stati scoperti 5 lavoratori in nero, 2 di questi percepivano il reddito di cittadinanza. Il servizio. Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano, unitamente ai colleghi del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo e del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani, hanno condotto uno specifico servizio volto alla tutela della sicurezza alimentare del lavoro, nonché per verificare il rispetto della normativa di contenimento della pandemia. All'esito del servizio sono state riscontrate diverse sanzioni a valenza penale e amministrativa, per cui sono state denunciate 5 persone ed elevate sanzioni per un totale di oltre 25 mila euro. In particolare, le ispezioni presso attività commerciali di vario genere hanno evidenziato 5 casi in cui la presenza di impianti di ripresa audiovisivi non era stata preventivamente autorizzata dall'ispettorato territoriale del lavoro di Trapani. I rispettivi legali rappresentanti sono stati denunciati in stato di libertà e raggiunti da una sanzione amministrativa pecuniaria. Nello stesso contesto operativo, i carabinieri hanno accertato che complessivamente 5 dipendenti svolgevano la propria attività lavorativa in nero presso due distinte attività commerciali. Per questo motivo, ad entrambe le attività sono state elevate sanzioni per ogni dipendente irregolare, oltre all'applicazione della sospensione dell'attività imprenditoriale, che sarà attiva fin quando le ditte non regolarizzeranno le posizioni dei dipendenti e non pagheranno le sanzioni di 2.000 euro. Di questi 5, due dipendenti percepivano il reddito di cittadinanza. E da domani, primo giugno, è prevista la ripresa operativa del posto fisso carabinieri sull'isola di Marettimo. L'apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze dalle problematiche di sicurezza e ordine pubblico legate al flusso turistico verso la più lontana dell'Egadi, che si auspica essere presente anche quest'anno. La presenza dell'arma con servizi giornalieri di ricezione al pubblico e di perlustrazione del territorio sarà garantita dal personale preposto presente 24 ore su 24. E l'86enne di Marsala, Antonio Bonafede, rimarrà in detenzione domiciliare fino al 2026. Antonino Bonafede, 86 anni, esponente di spicco della vecchia Cosa Nostra Marsalese, permarrà in detenzione domiciliare per altri 5 anni. L'anziano capofamiglia di Marsala, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, è stato colpito da un nuovo provvedimento giudiziario che conferma la pena alternativa della detenzione domiciliare fissandone la scadenza nel 2026. Antonino Bonafede, padre dell'ex latitante Natale, quest'ultimo condannato all'ergastolo per omicidi commessi nei primi anni 90 su ordine della cupola, allora capeggiata da Totò Riina, sta scontando dal 2017 la pena definitiva per 416 bis in detenzione domiciliare a causa di alcune gravi patologie che lo affliggono. In virtù di un'ulteriore condanna definitiva per violazioni agli obblighi imposti ai condannati mafiosi, il Tribunale di Marsala, a seguito dell'inammissibilità del ricorso dell'imputato dichiarato dalla Corte di Cassazione nel febbraio di quest'anno, ha confermato il termine della detenzione domiciliare al 2026. Le ultime indagini sulla mafia trapanese effettuate dal ROS dei carabinieri hanno fatto emergere come, a seguito degli arresti dei capi famiglia, i fratelli Rallo, Antonino e Vito Vincenzo, la reggenza vacante della famiglia di Marsala sarebbe stata affidata nel 2009 proprio all'anziano uomo d'onore Antonino Bonafede, zio Nino, ritenuto una garanzia anche in virtù dei precedenti rapporti di massima collaborazione con lo storico capo mandamento di Mazzara del Vallo, Vito Gondola, con il quale venivano organizzati i summit mafiosi. Il provvedimento del Tribunale è stato notificato dai carabinieri presso l'abitazione del condannato. Da domani tornerà in funzione la funivia che collega Trapene ed Erice dopo che nei giorni scorsi sono state effettuate le attività ispettive di verifica condotta dagli ispettori dell'Ufficio Sistemi di Trasporto e Impianti Fissi del Ministero dei Trasporti. E come detto nei titoli, tre regioni da oggi sono in zona bianca, non ancora la Sicilia. I dettagli per capire cosa cambia con questi passaggi di colore e comunque cosa riapre anche in Sicilia nei prossimi giorni. Da domani, primo giugno, per le regioni in zona gialla, compresa la Sicilia, cambiano alcune cose importanti. La principale è che si potrà andare al ristorante o al bar anche al chiuso. In zona gialla c'è coprifuoco dalle 23 alle 5 fino al 6 giugno, dal 7 giugno dalle 24 alle 5, dal 21 giugno non c'è coprifuoco. I ristoratori prima dell'apertura dovranno definire il numero massimo di presenze contemporanee all'aperto e soprattutto al chiuso in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi di aria. E rendere disponibili e obbligatori i prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale. Deve esserci almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso ed è almeno un metro di separazione negli ambienti all'aperto. I conviventi non dovranno mantenere il distanziamento, non c'è più un limite per i posti a tavola, indispensabile è mantenere il distanziamento. La mascherina va indossata al ristorante in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, tranne nei momenti del bere e del mangiare. Il personale del ristorante la deve invece indossare sempre. Da domani primo giugno è consentito consumare al bancone. Si deve assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti. Nei bar, se non ci sono posti a sedere, si deve consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione. Si può organizzare il buffet solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso per clienti e personale l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina. E i clienti possono servirsi da soli solo ai buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Per quanto riguarda matrimoni e cerimonie, sia che si svolgano in area bianca, sia dal prossimo 15 giugno, che si celebrino in zona gialla, i partecipanti dovranno avere il Green Pass, vale a dire il certificato di vaccinazione di avvenuta a guarigione o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento. Il numero delle persone a tavola, nei banchetti, è libero, ma rispettando il distanziamento e si può prevedere un'esibizione musicale mantenendo il distanziamento di 3 metri dal pubblico. A proposito ovviamente di coronavirus, in Sicilia la campagna vaccinale per gli under 40 potrebbe slittare di qualche giorno rispetto al 3 giugno fissato dal generale Figliuolo. Una riunione in programma oggi chiarirà quando si potrà partire con questa fascia d'età. La regione, prima di mettere a punto il piano, vuole avere certezza che siano disponibili a giugno gli oltre 2 milioni di dosi di vaccini garantiti dal generale Figliuolo. Non è escluso nemmeno che il via libera possa slittare di qualche giorno. Fino a ieri gli elenchi degli aventi diritto infatti non erano stati ancora forniti a poste italiane che appena li avrà provvederà a caricarli sul portale. Ieri gli hub siciliani hanno ricevuto 76.100 dosi di Moderna e Johnson e Johnson mentre altre 168.000 dosi di Pfizer dovrebbero essere distribuite mercoledì prossimo. A scarseggiare sull'isola e soprattutto il vaccino AstraZeneca. E come dicevamo, nonostante una discesa dei contagi in Sicilia, tale discesa va un po' a rilento, che mette a rischio di diventare zona bianca dal prossimo 21 giugno. Ascoltiamo il perché. Chiamarlo allarme rosso sarebbe esagerato e fuori luogo, ma i dati dell'epidemia in Sicilia adesso tengono in allerta. Nessuna impennata di contagi o segnali negativi dagli ospedali, ma mentre l'Italia si prepara piano piano a decolorarsi e finire in bianco, l'isola rischia di entrare in ritardo in quella zona franca che dà il vero via libera alle riaperture totali. Il bollettino di ieri ha messo a referto 348 contagi. Ancora una volta la Sicilia si è ritrovata nel podio delle regioni più colpite alle spalle di Lombardia e Campania. Niente panico, giusto ribadirlo, però una frenata nella discesa c'è ed è evidente. Se il calo dei contagi era arrivato fino al meno 32% nelle settimane precedenti, negli ultimi sette giorni la variazione fa segnare un molto più contenuto meno 6%. In poche parole la curva Covid sta ancora scendendo, ma lo fa molto lentamente questo rischio di bloccare l'isola nel limbo. Per mettere piede nella gognata zona bianca è indispensabile raggiungere un'incidenza dei casi per 100.000 abitanti che sia uguale o inferiore a 50. La Sicilia al momento è a quota 55, ma serve un calo ancora più sostenuto per abbattere la fattidica soglia. Dunque si spera che l'accelerazione verso il basso possa riprendere il prima possibile. Anche altre regioni, come ad esempio la Lombardia, nei giorni scorsi avevano subito una frenata nel calo dei contagi, salvo poi imboccare nuovamente la strada giusta e assestarsi su livelli di assoluta tranquillità. Le buone notizie arrivano dai reparti ospedalieri, con soltanto 65 posti letto occupati in terapia intensiva e 484 negli altri reparti Covid. L'arrivo delle nuove forniture di vaccini e l'apertura della campagna a tutte le fasce d'età dal prossimo 3 giugno inducono all'ottimismo, sperando che i dati possano portare buone novelle nei prossimi giorni e spingere la Sicilia verso una zona bianca quanto mai vitale. E sempre in tema di coronavirus, tutti gli uffici comunali ubicati nell'ex complesso Sant'Agnese di Piazza Badiella a Mazzara del Vallo rimarranno chiusi nella giornata di oggi, 31 maggio e martedì 1 giugno, per essere sottoposti ad una sanificazione straordinaria in quanto a seguito della campagna di screening anti-Covid che è interessata il personale comunale, sono risultati positivi alcuni dipendenti che operano negli uffici di Sant'Agnese. Da qui la decisione di chiudere per due giorni gli uffici ed effettuare la sanificazione. Gli appuntamenti programmati, ovviamente le persone che avevano un appuntamento in questi due giorni verranno contattate per fissare una nuova data. E una notizia adesso un po' curiosa e anche un po' grottesca, le motovedette libiche, quelle famose ormai che sparano, sequestrano i pescherecci, soprattutto di Mazzara del Vallo, vengono riparate in Sicilia e sono ormeggiate al cantiere di riporto. Nel porto turistico della cittadina costiera catanese di Riposto c'è il cantiere navale delle motovedette donate dall'Italia alla Guardia Costiera Libica in base agli accordi bilaterali con il governo di Tripoli con lo scopo di fronteggiare l'immigrazione irregolare e usate invece spesso e volentieri per sparare arbitrariamente ai pescherecci siciliani. A inizio mese l'aliseo della flotta di Mazzara del Vallo è stato mitragliato dai militari libici proprio da una delle prime motovedette della nostra Guardia di Finanza donate nel 2018 alla Libia. È stato solo l'ultimo di vari episodi culminati nei 18 pescatori imprigionati per più di tre mesi per un presunto sconfinamento marittimo prima di essere liberati a ridosso dello scorso Natale. Un atteggiamento incomprensibile nei confronti di un paese teoricamente alleato del fragile esecutivo nordafricano. Fatto sta che è qui che avviene la manutenzione delle motovedette con la possibilità dei libici di effettuare ispezioni a bordo per la verifica dell'avanzamento dei lavori. A seguito dell'attacco armato del 6 maggio in acque internazionali il comandante dell'aliseo Giuseppe Giacalone è rimasto ferito e il suo peschereccio ha subito oltre 100.000 euro di danni. Ecco il regalo che ci fa l'Italia ha commentato appresa la notizia del cantiere catenese al lavoro in questi giorni. Mi sono accorto di queste motovedette con la scritta in arabo e ho scoperto che erano le motovedette donate dall'Italia alla Libia racconta il primo cittadino di riposto Enzo Carigliano. Mi chiedo perché queste motovedette attaccano anche i nostri pescatori ma questa è una domanda che va posta in altre sedi io sono soltanto un sindaco. Un ricatto economico per fare cassa sul budget dell'Italia? Pial Via Sicilia ha oltre 40 milioni di finanziamento per le imprese artigiane. La Crias Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane come soggetto in house della regione siciliana è stata riconosciuta dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e iscritta nell'elenco delle società in house providing. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. Ringrazio l'Autorità Nazionale Anticorruzione afferma l'esponente del governo musumeci per la solerzia mostrata nell'iter di riconoscimento della Crias che giunge in un frangente così delicato per il mondo artigiano. Si tratta di un passaggio fondamentale che abbiamo raggiunto grazie al gioco di squadra con la struttura della Crias e del Dipartimento Attività Produttive e che consentirà alla regione di dare alle imprese artigiane siciliane quella boccata d'ossigeno vitale per ripartire ed evitare il fallimento. Grazie al riconoscimento dell'ANAC la Crias potrà attivare il fondo impresa artigiani a valere su POFESR che ha una dotazione finanziaria di 40 milioni e che è destinato a sostenere la ripresa del tessuto imprenditoriale artigiano siciliano in difficoltà a causa della pandemia. Il fondo consentirà di erogare finanziamenti a tasso agevolato pari all'80% degli investimenti ammissibili acquisto macchinari e attrezzature del ciclo produttivo spese per la formazione specialistica ristrutturazione e manutenzione del laboratorio acquisto software e investimenti in marketing e contributi a fondo perduto nel limite del 20% del finanziamento concesso fino ad un massimo di 5 mila euro. Verranno anche erogati contributi a fondo perduto nel limite massimo di 2 mila euro per il rimborso del 100% delle spese sostenute per commissioni e interessi derivanti dalla concessione dei finanziamenti ai sensi del DL sostegni bis. Oltre ai fondi europei che la Crias erogherà con apposito bando si aggiungono anche i fondi ex artigian cassa che dallo Stato sono passati alla regione siciliana. E spostiamoci di nuovo a Mazzara dove da domani martedì primo giugno ci sarà una nuova viabilità estiva per il quartiere di Tonnarella un ampio tratto del lungomare Fata Morgana infatti si procederà a senso unico in direzione via del mare scatterà quindi da domani primo giugno la nuova regolamentazione della viabilità e rispetto agli ultimi anni sarà prevista un'inversione di percorribilità di numerose strade a partire proprio dal lungomare Fata Morgana è una nota politica della città di Mazzara del Vallo ieri assemblea dei soci di partecipazione politica che si è riunita nel cortile di Mulino a Bonacasa e ha rinnovato il proprio coordinamento i membri del gruppo civico hanno affidato per i prossimi due anni a Paola Caltagirone e Paola Galuffo il ruolo di coordinatrice e vice coordinatrice a Stefano Bonacasa quello di segretaria Giuseppe Angileri tesoriere mentre Ghetano Lamia sarà il rappresentante politico del coordinamento e abbiamo detto nei titoli procedura di mobilità compensativa di interscambio del personale tra i comuni di Mazzara del Vallo e Trapani i particolari nel servizio nei giorni scorsi accolto dal sindaco Salvatore Quinci e dal dirigente del settore gestione delle risorse Maria Stella Marino ha preso servizio presso il comune di Mazzara del Vallo il nuovo dipendente comunale Pasquale Giampiero Timpone Timpone proviene dal comune di Trapani ed è stato assunto dal comune di Mazzara del Vallo nell'ambito di una procedura di mobilità compensativa di interscambio richiesta e autorizzata contestualmente che ha previsto il passaggio dello stesso Timpone dal comune di Trapani al comune di Mazzara del Vallo e il passaggio della dipendente comunale Angela Piazza dal comune di Mazzara del Vallo a quello di Trapani uno scambio alla pari di categoria e mansioni entrambi sono istruttori amministrativi contabili categoria C Timpone presterà servizio al quarto settore servizi demografici lo stesso dove operava la signora Piazza il sindaco e la dirigente del settore personale hanno dato il benvenuto e formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo dipendente comunale esprimendo nel contempo gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento per il servizio prestato al comune di Mazzara del Vallo alla signora Piazza che è transitata al comune di Trapani dal piano triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 approvato nei giorni scorsi dalla giunta municipale si evidenzia che sono 375 i dipendenti comunali in servizio il primo gennaio 2021 novità e dettagli sul piano assunzionale triennale verranno forniti nei prossimi giorni il comune di Petrosino informa la cittadinanza che sono stati riaperti termini per accedere alla misura del reddito zero Sicilia relativa all'erogazione dei buoni spesa a tal proposito è stato pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale il nuovo avviso che riguarda l'utilizzo dei fondi messi a disposizione degli enti locali dal governo regionale le richieste dovranno pervenire al comune di Petrosino entro e non oltre le ore 13.30 dell'11 giugno 2021 e apriamo adesso la pagina sportiva con un finale di partita struggente la palla canestro Trapani perde gara 4 contro Udine ed esce dai playoff una partita incredibile caratterizzata da un forte equilibrio per tutto il corso dei 40 minuti di gioco con i Granata bravi a raggiungere il più nuovo un minuto dalla fine dell'ultima frazione quando tutto sembrava incanalato verso la vittoria però Johnson della squadra dell'Udine sale in cattedra e con 10 punti di fila realizzati nell'ultimo minuto consegna la vittoria ai suoi e ieri si è anche giocata la prima giornata del triangolare per i playoff i risultati Canicattì San Cataldese 1-1 Folgore Agragas 1-1 hanno riposato ricordiamolo rispettivamente per il girone con Canicattì San Cataldese Mazzara mentre per quanto riguarda il girone Folgore Agragas ha riposato la Nissa domenica 6 giugno ci sarà il match di cartello Mazzara-Canicattì e Nissa Folgore quindi un incitamento ai colori giallo-blu per poter raggiungere la finalissima che si disputerà tra le due vincenti dei due triangolari adesso parliamo di pallamano al termine di un match combattuta da armi pari è stato deciso soltanto nei minuti finali il giovinetto Petrosino ha dovuto cedere gli onori e le armi al cospetto di un compatto e ben organizzato Cus Palermo che si è così aggiudicata alla Coppa Sicilia di serie A2 imponendosi per 44-40 e chiudiamo con gli scacchi lo scacco Club Mazzara è alle fasi nazionali ottimo inizio nei primi tornei dal vivo che rispettano i protocolli sanitarie permettono la disputa delle gare in presenza dei giovani dello scacco Club Mazzara a Marsala dove si sono svolti recentemente i campionati provinciali e regionali hanno partecipato alle gare di categoria Elisa Cammarata Bianca Pipitone Riccardo Casano e Francesco Bevilacqua mantenendo una condotta di gara lineare ben tre sono riusciti ad ottenere anche il podio nelle gare che assegnavano il titolo provinciale vincono il titolo le bravissime Bianca Pipitone negli under 12 ed Elisa Cammarata negli under 10 Francesco Bevilacqua raggiunge il podio con il terzo posto negli under 18 mentre Riccardo Casano è arrivato a metà classifica buona anche la prestazione al campionato regionale valido per le qualificazioni al nazionale raggiungono l'obiettivo Bevilacqua Casano e Pipitone mentre la piccola Elisa Cammarata si rifarà sicuramente il prossimo anno adesso la mossa passa alla FEDER Scacchi che secondo i protocolli sanitari vigenti darà il via alle date in cui si svolgeranno i nazionali in sede da destinarsi ed era questa l'ultima notizia del nostro TG io vi lascio con la programmazione di Telehot e vi do appuntamento alla prossima edizione a Autore dei sorrisi